Musica 103 anni di vita, 80 di sacerdozio, è mancato Don Giuseppe Dall'Orso, il decano dei sacerdoti della diocesi, i funerali a Sestri Levante. Un prete burbero dal cuore grande, il ricordo carico di affetto di Monsignor Alberto Tanasini, un sacerdote aperto che non si lasciava fermare dalle novità. Saldo e sorridente, Don Dall'Orso non si è mai fatto spaventare da ciò che la provvidenza ha seminato sul suo cammino, il ricordo di due dei suoi amici più stretti, Luigi Codde e Enrico Rovegno. Per una ecologia integrale occorre convertire stili di vita, di produzione e di consumo nella veglia ecumenica per il creato, la riflessione sul ruolo dell'uomo nel mondo, non padrone ma custode. Solidarietà, sussidiarietà e responsabilità, i tre cardini su cui poggia il processo avviato dall'Europa di transizione ecologica, a chiava di convegno ecumenico a coronamento del tempo del creato. Un oratorio dove crescere pensando all'altro, la realtà di Santa Maria del Campo a Rapallo ha celebrato 16 anni di vita e ha festeggiato col Vescovo ripartite le attività oratoriali. La comunità di San Bartolomeo della Ginestra ha festeggiato Nostra Signora del Soccorso insieme a Monsignor De Vasini, è stato completato il restauro della statua della Madonna addolorata. 75 anni di gratitudine, il villaggio del ragazzo ha celebrato il compleanno con gli ex-alunni e nella memoria di Don Nando che ha reso carne, ha detto il Vescovo, l'anima del Vangelo. Le religiose della diocesi desiderano ripartire dopo la crisi pandemica. Le madri superiore di 14 istituti hanno incontrato il Vescovo, rieletta delegata a Usmi, suor Piera Antonia Colombo. Amici per sempre, insieme sulla strada della beatificazione, si è chiusa la fase diocesana per Alberto Michelotti e Carlo Grisolia. A Genova la messa presieduta da Monsignor Marco Tasca. Benvenuti a noi chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Tutta la nostra diocesi sarà coinvolta nell'apertura del cammino sinodale. La celebrazione della liturgia della parola è prevista per sabato sera alle 21 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orta a Chiavari. La presiderà il Vescovo, Monsignor Giampio De Vasini. La celebrazione sarà trasmessa in diretta tv su Telepace. Ma senza ombra di dubbio tutta la nostra diocesi è stata coinvolta nel lutto che l'ha colpita con la scomparsa di Monsignor Alessio Giuseppe Dall'Orso. 103 anni, il decano dei sacerdoti della nostra diocesi. I funerali sono stati celebrati nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Ascoltiamo adesso un nostro ricordo e poi le testimonianze del Vescovo Emerito Monsignor Alberto Tanasini e di due suoi carissimi amici Luigi Codd ed Enrico Rovegno. L'atteggiamento burbero ma il cuore è sempre aperto all'ascolto e alla conversione. La fotografia di Don Alessio Giuseppe Dall'Orso era paroco emerito di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante, la comunità alla cui guida era rimasto per ben 31 anni, uno dei tanti traguardi record tagliati dal sacerdote insieme ai 103 anni di vita e 80 di sacerdozio. Nato a Lavagna il 5 aprile 1918, era entrato in seminario ad appena 11 anni, ordinato sacerdote l'8 marzo 1941. Sin da subito gli fu affidato l'incarico di seguire la formazione dei giovani seminaristi, prima come vicerettore e padre spirituale del seminario, poi come rettore dal 1949. A Sestri Levante era arrivato nel 1966 per affiancare Monsignor Trofello nella guida della parrocchia di Santa Maria di Nazareth, comunità della quale diventerà parroco nel 1969, in carico quest'ultimo che ricoprirà sino all'anno 2000. In Basilica fece restaurare il Santo Cristo, immagine tanto cara ai sestresi, e realizzare la nuova canonica seguendo i criteri del concilio Vaticano II che prevedeva la vita comunitaria dei sacerdoti. Nel 2000 si era trasferito nella casa del clero, alla cui realizzazione aveva contribuito lui stesso. Determinato e intelligente ha sempre conservato la capacità di arrivare sino in fondo alle cose, superando gli ostacoli più grandi, ma al tempo stesso capace di fare passi indietro di fronte agli errori con umiltà. Grazie al suo appoggio nel 1974 nacque a Sestri Levante il gruppo neocatecumenale, che oggi conta 400 persone. Nel 2011 era stato nominato cappellano di sua santità. Una delle ultime apparizioni in pubblico era stata in occasione dei suoi cento anni. Al termine della messa in cattedrale aveva ricevuto l'affettuoso saluto di tanti fedeli, giovani ed anziani accorsi per ringraziare il loro don. Per tutti Don Giuseppe aveva avuto un pensiero di incoraggiamento, con l'invito ad essere gioiosi nella vita come Don Dall'Orso è stato sino all'ultimo istante della sua esistenza terrena. Come è stato il vostro primo incontro? Come vi siete conosciuti quando lei è arrivato in diocesi? Quando sono arrivato era già nella casa del clero, da poco tempo, perché 17 anni fa era un novizio della casa del clero. Comunque era già quello che chiamo io il nonno dei preti. Allora non era il più anziano, ma ho visto subito come era venerato dai preti di Chiavari, perché in fondo quasi tutti, anche i più anziani ormai, l'avevano avuto come rettore in seminario, rettore apprezzato. E lui ne era consapevole, chiamava tutti bimbo, ha continuato a chiamare tutti bimbo, bimba. Era consapevole non solo della sua età, ma di questa sua posizione particolare. Non chiamava bimbo il vescovo, penso, per riguardo. Se dovesse identificare un tratto distintivo di Don Don L'Orso, che cosa direbbe? Non ridete, la giovinezza era un prete giovane, giovane nella mente e giovane nel cuore. Era aperto. Non si meravigliava delle novità che bisognava introdurre per il meglio dell'evangelizzazione, del servizio al popolo di Dio. Non sempre è stato capito in questo, o è stato accettato. Però andava dritto per la sua strada quando aveva una convinzione. Per questo credo sia stato anche apprezzato. Non mi ha mai fatto obiezioni sui cambiamenti che venivano. Qualche volta mi sono rivolto a lui per chiedere dei pareri, me li ha dati tranquillamente, ricordandomi che sono il vescovo e che quindi avevo la responsabilità delle decisioni. Ma aveva anche la lucidità del discernimento. La sua comunità lo ricorda con tanto affetto, in particolare i sestresi, dove è stato per 31 anni. 31 anni di pastore in una parrocchia, 80 anni di sacerdozio, tagliato traguardo proprio nel 2021. Quindi una vita sicuramente spesa per la Chiesa, per la sua comunità. Ha dato rilievo alla festa del Santo Cristo e i sestresi penso ne siano riconoscenti perché i sestresi ci hanno sempre tenuto. E lui ha fatto in modo che fosse una festa significativa, un momento forte di devozione al crocifisso. E pregava molto, diceva, era ancora attento negli ultimi tempi, al breviario, alla celebrazione della liturgia delle ore. Ti fermava e diceva, senti qui, condivideva quello che stava leggendo. Ci teneva a sottolineare questo aspetto. E quindi si vede che, ad esempio, non diceva le preghiere della liturgia delle ore tanto per dirla. Ma era attento, era profondo e ci teneva a condividerlo. So anche che faceva la catechesi spicciola agli inservienti della casa. Spiegava le cose, quando erano in camera, che facevano le pulizie, che facevano il servizio. E lui faceva la catechesi a loro, su questo punto, su quest'altro. Ne ho la prova e lo faceva in modo che se lo ricordavano. Perché poi interessante è questo. Il suo sorriso è, nello stesso tempo, la sua fermezza. è una persona che aveva messo insieme due caratteristiche fondamentali, secondo me. Cioè, quello proprio dell'umiltà, la sua più grande virtù, e quella della fermezza nella fede, quella della fermezza nella sua missione, nella sua missione pastorale, insomma. Cosa che a molti poteva sembrare anche di urto, molto dura, no? E invece lui riusciva, proprio con la sua umiltà, a mettere insieme queste cose. Un pochettino come Gesù Cristo, insomma, no? Che è una persona ferma, no? Che abbiamo visto nel Vangelo, racconta anche delle cose molto dure, molto forti nei confronti dei farisei, nei confronti del Tempio, dei mercanti, eccetera, che però poi accoglieva tutti con la sua grande misericordia, con la sua grande umiltà, e accoglieva i peccatori. Chi andava a confessarsi da lui ne rimaneva sempre colpito per questa sua benevolenza, per questa sua misericordia per i peccatori, veramente. Il semplice fatto che lui, all'età di 56 anni, nel 1974, quando era un po' al culmine della sua, virgolette, carriera, no? Cioè, dove un sacerdote oramai è un po' così, oramai assestato, lui si è rimesso in discussione completamente, ha accolto il cammino, perché lui cercava un qualche cosa di nuovo di diverso per il giubileo del 1975, che era stato un giubileo straordinario. Era andato a Roma, aveva parlato con Monsignor Maverna, che era stato vescovo qua a Chiavari, che l'aveva indirizzato ai martiri canadesi, della parrocchia dove c'era questa nuova esperienza appena arrivata, diciamo da pochi anni in Italia, di questo cammino neocategumenale. E lui l'ha accolto nella sua parrocchia e poi ne è rimasto coinvolto, nel senso che si è rimesso in discussione, si è messo lui in cammino. Quindi ha avuto l'umiltà di prendere la novità del concilio e di ricominciare da capo la sua esperienza cristiana. E questa è una virtù enorme che ha fruttato, poi nella sua parrocchia oggi ci sono 350 persone oggi, ma tutte quelle che sono passate saranno un migliaio, che hanno ricevuto un annuncio di salvezza. Quanto bene ha fatto Monsignor Dall'Orso per il cammino neocategumenale anche in questi ultimi anni? Tanto, non so se tutti lo capissero alla prima, perché l'uomo era volitivo. Un parroco dello Spezzino mi confidò di averlo incontrato mentre guidava un po' di giovani su un monte e Don Giuseppe veniva dalla parte qui di Chiavari e guidava i seminaristi, perché era il retore del seminario. Con una verga che gli ha fatto venire in mente a questo parroco, l'esodo diciamo, o Mosè o Aronne, ma insomma. Quello era il piglio, lui era un capitano di ventura, uno che combatteva, ma non per se stesso, veramente in nome di Gesù Cristo. E questo lo portava ad avere un rapporto anche molto diretto, convocava la riunione per decidere che cosa fare nelle feste del Santo Cristo. arrivavamo, venti persone, e diceva allora ho deciso che si fa così. Ecco, quello era l'inizio della riunione. Questi particolari però non hanno certo oscurato il fatto che si sentiva che ti voleva bene. A parte che il suo intercalare prediletto, anche con persone ormai di età, era questo. bimbo, oppure bimbo, bimbo, nel senso che il primo era così un affetto che si manifestava, e il secondo era sollecitare qualcuno che secondo lui perdeva tempo, eccetera. Ecco, questo era l'uomo, Don Giuseppe, che io abbiamo anche litigato, ricordo che una volta mi sono messo in ginocchio per chiedergli perdono insieme al nostro catechista, e quella è stata l'unica maniera per fargli riaprire fisicamente la porta che ci aveva sbattuto in faccia. Ecco, questo era Don Giuseppe, e certo che si sentiva che voleva bene. Ora parliamo di transizione ecologica, una chiamata non più rinviabile per tutto il nostro pianeta e anche per la Chiesa universale. Se ne è parlato anche nella nostra diocesi in occasione del Tempo del Creato, due momenti di riflessione e di preghiera che sono stati organizzati dall'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso della nostra diocesi e dall'Ufficio per la pastorale del lavoro e delle problematiche sociali. C'è stata la veglia di preghiera ecumenica in cattedrale e poi un convegno con esperti del settore che si è tenuto sempre a chiave in casa Caritas. Su tutto questo vediamo i nostri servizi. Il processo di transizione ecologica passa attraverso la conversione delle coscienze. Non basta trovare risposta alla crisi ambientale ma accorre una profonda mutazione del rapporto dell'uomo con il mondo. La fine dunque di un dominio antropocentrico che lascia spazio ad apertura e condivisione. È il cuore del messaggio del Vescovo Giampio De Vasini espresso nella veglia ecumenica di custodia del creato impegno che riguarda tutti a qualsiasi religione si appartenga. Personalmente sono convinto che ogni uomo religioso a qualsiasi religione appartenga non può non riconoscere che la terra e più in generale la vita stessa non debbono essere in alcun modo concepite come delle mere proprietà. L'uomo ha una funzione di custodia della vita e della terra. È chiamato a prendere l'iniziativa e a coltivare tenendo però l'atteggiamento del forestiero. L'uomo è un amministratore che riceve e che deve riconsegnare non tanto e non solo a Dio. I problemi che affliggono la terra spiegato Monsignor De Vasini dipendono da ragioni interne come l'ingiustizia sociale, la prepotenza di alcuni uomini sulla maggioranza di altri uomini. Il vertiginoso aumento dei disastri climatici, il diseguale impatto della pandemia sui più poveri e fragili, sono campanelli di allarme di fronte all'avidità sfrenata dei consumi imposta da un mercato ispirato a logiche meramente finanziarie. Ecco allora il processo di conversione che deve riguardare l'uomo nella sua interezza, spirito, anima e corpo. È una profonda mutazione del nostro rapporto con il mondo. Il processo di transizione ecologica applicato ai vari ambiti dell'agire umano. Su questi temi si è concentrato il convegno in chiave ecumenica ospitato a Casa Caritas a Chiavari a coronamento del tempo per il creato. La preghiera ecumenica nella cattedrale di Chiavari ha aperto un percorso di riflessione che dovrà culminare in azioni concrete. Dal punto di vista culturale è stata evidenziata la necessità da parte delle chiese e delle scuole di formare una classe dirigente che sappia vedere l'esistente e promuovere azioni. La pianificazione degli interventi, la misurazione dell'effettiva realizzazione degli interventi e soprattutto anche il fatto di generare poi entusiasmo e positività vedendo che gli interventi vanno a buon fine. Cioè non c'è nulla di meglio che creare un circolo virtuoso per fare questa cosa. A me non piace parlare in generale di ecologia una parola che uso poco perché molta gente si riempie la bocca perché poi vuol dire abbastanza poco mi piace invece parlare cosa vuol dire magari dal mare tenerlo un po' più pulito generare energia dal mare generare commercio sul mare pulito e quindi applicare magari anche discorsi tipo quello che è l'utilizzo anche non solo in motorescopio vedi dicendo anche sul mare visto che siamo in Liguria però la stessa cosa vale nella smart city la stessa cosa vale in generale un po' in tutto l'ambiente dopo il covid il mondo non sarà più lo stesso ci sarà una generale trasformazione digitale nei servizi nell'industria nella scuola nell'energia bisognerà scegliere molto è inutile parlare sempre solo di fotovoltaico e di idrico piuttosto che di eolico perché questi oggi generano non più del 10% dell'energia dopo la gente si inventa i numeri dobbiamo avere anche il coraggio magari di parlare anche di nucleare pulito adesso che sarà possibile farlo e cose di questo genere quindi non tutto sarà immediatamente percepibile ma bisogna diffondere anche dei messaggi altro aspetto è quello delle città che devono avviare programmi significativi favoriti dallo sviluppo della tecnologia facendo memoria degli aspetti positivi che la pandemia ci ha insegnato con un'attenzione alle periferie ormai non si può più pensare di avere delle periferie lontane dal centro ma dobbiamo sempre di più ragionare con una città con delle modalità di trasporto un po' come diciamo noi a Milano della città in 15 minuti dove ci siano dei centri di aggregazione molto importante che possono essere le chiese le scuole dove le persone si incontrano e ritornano a fare comunità chi sono i protagonisti di questo percorso abbiamo parlato di città quindi amministratori datori di lavoro cittadini allora in questo percorso secondo me devono partecipare tutti però ovviamente i primi che devono dare un buon esempio diciamo così sono le amministrazioni da questo punto di vista adesso abbiamo un governo che sta avviando una politica dal punto di vista delle mobilità sostenibili e anche della transizione ecologica molto importante ma il tema è quello del dialogo con le città metropolitane con i comuni con le province che hanno invece delle responsabilità puntuali sulle loro aree allora io quello che consiglio è sostanzialmente un ascolto un ascolto dei cittadini un ascolto di tutti quanti gli stakeholder e di quelli che sono le loro necessità e una costruzione di nuovi modelli che tenga conto diciamo così di tutti quanti ma anche le imprese perché in questo percorso giocano un ruolo fondamentale le imprese che devono cominciare anche a trasformare i loro modelli di sviluppo per rendere le città più vivibili e poi soprattutto noi cittadini che dobbiamo incominciare anche nel nostro piccolo a sviluppare dei comportamenti più adeguati a quelle che sono le necessità del momento e quindi tentare di non consumare acqua tentare di insomma di svolgere tutte quelle cose che ci permettano di vivere un po' tutti più sereni più tranquilli non stressati come questa ripresa in questo momento ha un po' caratterizzato insomma l'Europa dal canto suo ha convogliato risorse la cui fetta più importante spetterà i paesi con maggiori difficoltà economiche tra questi l'Italia a cui andranno 191 miliardi di euro il principio ispiratore delle iniziative che verranno intraprese deve basarsi su tre parole chiave solidarietà responsabilità e sussidiarietà che sono tre parole che sono poi al centro evidentemente dei valori della cristianità e non poteva che essere così perché poi di fatto l'Europa nasce da radici cristiane dall'incontro tra diciamo la professione cattolica quella protestante e quella ortodossa evidentemente quindi non è un caso poi che il piano nazionale i piani nazionali di ripresa e resilienza che sono articolati dentro questo programma per la nuova generazione abbiano queste tre caratteristiche nessuno escluso dunque da questo processo di transizione mirato a tutelare il creato attraverso una conversione delle coscienze la creazione di Dio continua per cui la terra è capace di rigenerarsi con tutte le capacità specifiche che ha direi quelle originarie il problema è che la gente e in modo particolare le chiese siamo molto contenti che tutte le chiese collaborano in questo campo si rendono conto della strada sbagliata e manifestino una certa penitenza riscoprano un po' ciò che il mondo ortodosso chiama l'ascesi cioè vivere accontentarsi con l'essenziale senza obbligare il creato di produrre più del dovuto oltre le sue regole che Dio ha stabilito e spese volte non per il bene di tutti ma piuttosto per il bene dei pochi ricchi ecco in questo occorre anche la preghiera dobbiamo impegnarci e nel 2001 con la carta ecumenica tutte le chiese europee almeno hanno detto che dobbiamo creare una rete che possa sviluppare educare e produrre una nuova mentalità per poter recuperare un nuovo stile di vita più consono più conforme alla volontà di Dio in che modo anche la chiesa locale è in cammino verso questo processo di transizione ecologica oggi un momento di riflessione ma poi occorre anche seguire con delle azioni concrete diciamo che la chiesa ortodossa romana qua a Chiavari c'è da poco tempo che abbiamo questa missione in questa zona diciamo per quanto riguarda questo convegno tutti insiemi con la chiesa cattolica e con le altre religioni dobbiamo stare un po' attenti e dobbiamo essere di più responsabili per tutto quanto riguarda il creato è una cosa molto importante che dobbiamo tenere conto a parte sappiamo tutti che abbiamo dei diritti e doveri doveri diciamo che sono tanti per tutti noi ma il diritto più importante che anche Dio ci ha insegnato è quello di amare e amare tutti che sono intorno a noi però di amare anche il creato e la terra che dobbiamo sempre tenere conto di questa cosa ringrazio ora torniamo alla cronaca diocesana iniziando da Santa Maria del Campo a Rapallo dove con la celebrazione dell'Eucarestia c'è stata l'apertura dell'anno dell'oratorio 116 ragazzi hanno partecipato a questa celebrazione anche se le attività ci sono state già durante la primavera ma sono proseguite durante l'estate e questo momento ha segnato un po' la ripresa del cammino anche con il coinvolgimento delle famiglie e dei genitori vediamo ripartono le attività dell'oratorio di Santa Maria del Campo che spegne 16 candeline un compleanno speciale festeggiato con il Vescovo un luogo che vive del grande impegno di tante mamme catechiste e volontari l'oratorio è un posto dove i bambini crescono e imparano a stare insieme a condividere non è più io ma è noi e molti diciamo anche bambini che magari sono figli unici imparano a stare insieme a giocare insieme a condividere quello che portano e a pregare uno per l'altro e secondo me è molto bello perché si cresce insieme e crescendo anche gli adolescenti hanno un supporto dove imparano a magari gestire i conflitti insomma non si sentono soli e si cresce secondo me più facilmente quante età si diceva vengono accolte diciamo all'oratorio si accoglie dai sei anni e poi vabbè diventando poi adolescenti tanti si fermano diventano un po' i pilastri insomma gli eroi dei più piccoli e aiutano anche noi che magari ci proponiamo come educatori e insomma ci sono dai piccini ai più grandi è molto bello siamo un bel gruppo anche se tanti di noi forse neanche si conoscevano però si crea un'amicizia si crea una conoscenza magica un qualche cosa che ti porta a parlare a ridere ad aiutarti e questa è la fortuna di vivere l'oratorio qua a Santa Maria in oratorio si viene il martedì pomeriggio e il sabato per il catechismo qui si alternano laboratori giochi attività ed uscite i progetti vengono condivisi questa è una grande famiglia quindi si sta insieme si cresce insieme aiuta sicuramente ai bambini ma anche a noi adulti a fare un percorso di serenità perché qui si vive proprio in un ambiente magico dove quando si viene si condivide tutto dalle idee ma soprattutto dalla fede questo è merito sicuramente artefice e Don Davide ma le catechiste come la Rosalba come la Marisa come la Paola stessa aiutano a noi genitori a continuare un percorso formativo ma soprattutto educativo dove si condivide tutto e questo credo che sia uno delle colonne portanti perché oggi condividere non è facile siamo in una società dove gli ultimi anni sono stati pesanti e forse si è vissuti e si vive con un po' di egoismo qui invece si condivide e si vive in un ambiente magico questa credo che sia una delle cose più belle in assoluto si colpisce questo no? un percorso per i ragazzi ma anche per i loro genitori sembra di capire sì quello è fondamentale per noi la fede e le catechisti ci aiutano a finire questa educazione a continuare nell'educazione dei bambini e soprattutto come dicevo prima condividere quello che c'è perché oggi la parola condivisione credo che sia non solo per i social ma a livello umano è una cosa fondamentale credo alla festa di domenica i bambini sono arrivati portando chi un pacco di pasta a chi uno di biscotti e poi tonno pane, caffè e così via l'idea è circolata giorni prima sulla chat whatsapp dell'oratorio quattro ceste sono state donate al vescovo come dono per i più poveri questi doni che andranno in caritas renderanno contente tante persone e questo è molto bello è un gesto veramente grande sì perché l'oratorio di Santa Maria del Campo non è solo gioco è un luogo dove soprattutto si impara a vivere e a volere il bene dell'altro abbiamo tanti progetti li condividiamo sempre con le famiglie quindi adesso c'è una mamma che si è prestata prossimo incontro per preparare un laboratorio quindi laboratorio di dolci quindi ancora da imbastire però questo dovrebbe essere e il prossimo martedì dovremmo avere un'altra mamma con un laboratorio di pizza ecco più o meno ogni martedì alterniamo giochi laboratori attività uscite quest'estate siamo andati al mare abbiamo con i genitori mangiato sulla spiaggia fino alla sera ecco abbiamo condiviso il cibo quindi tante attività abbiamo fatto delle gite siamo usciti a vedere delle cose insieme insomma siamo sempre in movimento da che ci siamo ripresi finalmente con la primavera che abbiamo potuto riaprire all'esterno noi abbiamo il vantaggio di avere questo grandissimo e bellissimo spazio abbiamo potuto rincominciare a vederci il nostro giorno è il martedì e durante l'anno di catechismo facciamo anche il sabato pomeriggio dopo il catechismo accompagniamo i bambini anche a messa in quell'occasione facciamo proprio tutto un servizio dalle 4 fino alle 6.30 che la messa è finita quante catechiste siete a dare manforte a Don Davide? a catechiste tante in oratorio si alternano mamme catechiste ragazzi animatori che sono un bel gruppo che ci aiutano infatti anche qua per la festa ieri ci siamo visti quei ragazzi abbiamo preparato con loro quindi i tavoli hanno tirato giù le tovaglie da mangiare le cose che c'erano da fare quindi io mi rivolgo sempre al gruppo dei ragazzi che poi faccio parte anche di quel gruppo lì con Don Davide quindi mi è più facile coinvolgerli un altro gesto di condivisione che avete fatto oggi quello di raccogliere alcuni cesti di cibo che poi vengono consegnati a Monsignor De Vadini per la carità personale del Vescovo esattamente pensavamo cosa potremmo fare di regalo al Vescovo e poi Suor Marta ha avuto questa bellissima idea ci è piaciuta a tutti quindi abbiamo messo noi abbiamo un gruppo di Whatsapp dell'oratorio abbiamo messo il volantino e naturalmente come sempre noi abbiamo una grande grazia quella di essere ascoltati e quindi sono arrivati sì tanto da fare quattro cesti più abbiamo anche un sacchetto a parte sì sì bellissimo guarda oggi in oratorio con Don Davide abbiamo un po' parlato ai genitori è bello anche incontrarli tutti insieme perché poi non sempre si riesce a parlare a tutti insieme magari quando vengono a prendere i bambini li portano ma sempre velocemente e quindi abbiamo cercato di far capire ai genitori cos'è l'oratorio perché magari chi non lo conosce non può capirlo noi non solo facciamo giocare i bambini noi siamo a parte appassionati di questa cosa che facciamo quindi nel gioco e nelle attività non solo chiediamo ai bambini così di giocare di divertirsi e di volersi bene ma noi abbiamo anche il desiderio che imparino a volere il bene uno dell'altro quindi a crescere come non solo pensando io 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 ma anche noi e saranno magari più facilmente dei bravi padri di famiglia non so o madri di famiglia anche responsabili nel lavoro magari anche politici che non penseranno solo a se stessi ma faranno le cose pensando un po' agli altri o alla famiglia o a chi è vicino a loro ecco questo è un po' il nostro scopo quindi insegnare a voler bene non solo diciamo a volersi solo bene ma proprio a volere il bene uno dell'altro e attraverso i vostri volti il Signore si continua a far incontrare da questi genitori che magari in alcuni casi magari avranno incontrato la fede in altri casi no ma insomma è un percorso di fede anche per le famiglie stesse assolutamente infatti noi abbiamo tanto riscontro dai genitori ad esempio anche oggi eravamo più o meno 120 adesso poi il numero perché poi si perde quando poi un certo numero non si riesce più a contarci perché poi dicono ho portato il mio nipote ho portato il mio amico ma va bene noi siamo anzi felici quindi si perde il numero però tante famiglie mi hanno scritto diciamo dispiaciuti non poter essere qua perché i bambini erano malati perché magari il nonno le ha chiamati non stava bene quindi abbiamo proprio diciamo questo desiderio delle famiglie di ascoltare cose buone di fare un cammino di vita buona con noi e questo è veramente bello è quello che ci riempie per la fine uno va via dopo tante ore tanta fatica però contento sulla nuvoletta come si dice quindi alla fine sì c'è un bel riscontro veramente bello infatti io sono molto contenta anche l'oratorio di San Bartolomeo della Ginestra ha ripreso riprende le proprie attività e un momento particolarmente forte della vita della comunità è senza ombra di dubbio la festa di Nostra Signora del Soccorso che è stata celebrata con particolare devozione nella comunità parrocchiale Sestrese è stata l'occasione per mostrare a tutti l'esito della curato restauro che ha interessato l'immagine della Madonna addolorata vediamo condividere ciò che abbiamo per non farci possedere dai beni che possediamo solo con il dono rendiamo possibile la felicità dell'altro ricevendo nel contempo bene e gioia moltiplicati lo ha ribadito il Vescovo che nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra Sestri Levante per la festa di Nostra Signora del Soccorso ha preso spunto dal Vangelo di Marco in cui l'Evangelista racconta l'incontro di Gesù con il giovane che possedeva molti beni posseggo solo ciò che dono ciò che io trattengo sarà questo qualcosa che trattengo a possedermi questo giovane è ostaggio dei suoi beni è posseduto dai suoi beni e la chiamata di Gesù gli fa prendere coscienza di tutto questo la vita eterna già su questa terra si vive condividendo con gli altri non facendosi possedere da ciò che si ha ha commentato ancora Monsignor Devasini che ha chiesto aiuto a Nostra Signora del Soccorso nel guidare l'uomo di oggi a vivere concretamente questa scelta cosa che il giovane del brano evangelico non fa e per questo oscuro e involto si allontana da Gesù Caro giovane anteponi le persone ai tuoi beni fa dei tuoi beni un sacramento un segno dell'incontro con gli altri sarai felice se renderai felice qualcuno Quello di domenica è stato il primo incontro tra il Vescovo diocesano e la comunità di San Bartolomeo della Ginestra per noi è davvero un momento bello di incontro è la prima volta che lui fa visita alla nostra comunità ma è vero che abbiamo avuto modo di conoscere di incontrarlo in altri momenti della nostra diocesi e vogliamo anche che lui conosca noi e che nasca questo legame di paternità e proprio chiedendo a lui di pregare per noi e con noi in occasione della festa patronale c'è stata la presentazione del restauro della statua della dolorata che anni fa aveva subito un furto e adesso è stata riportata al suo antico splendore abbiamo dovuto intervenire perché a causa di un furto aveva subito danni oggi verrà restituito dallo studio di Elena Parenti che ha fatto il restauro insieme alla sovraintendenza l'immagine che abbiamo scoperto naturalmente come sempre un'immagine molto bella che era stata anche negli anni un po' ricoperta aveva subito anche dei cambiamenti e abbiamo ritrovato un'immagine molto bella di Maria Dolorata e siamo contenti che ritorni nella nostra chiesa dopo tanto tempo perché per le nostre persone per tante persone è un riferimento perché davvero questa comunità è una comunità che guarda Maria che è una spiritualità mariana tutte le volte che una statua è danneggiata o ha dei danni subiti dal tempo per me è sempre un'emozione mettere mano su questi tipi di opere i lavori sulle sculture sono molto lunghi purtroppo in questo caso più lunghi per il periodo storico che abbiamo vissuto che è quello della pandemia però devo dire che questo è stato un restauro che oltre che tecnico per me è stato anche spirituale perché proprio per il periodo che abbiamo vissuto io ho rivolto spesso lo sguardo a queste immagini e devo dire che mi hanno dato la forza di vivere in questi momenti bui che abbiamo vissuto tutti la cosa più importante su cui mettere mano è proprio l'aspetto strutturale c'erano pezzi mancanti proprio anche a causa del furto che avevano subito sulle aureole e il ladro aveva spezzato delle parti in più sotto le ridipinture perché spesso le sculture nel corso dei secoli sono ridipinte rinnovate il concetto di restauro anticamente era solo quello la materia originale e la struttura era stata anticamente attaccata dai tarli e quindi si era indebolita molta parte del legno e quindi diciamo che la parte più difficile è proprio quella a livello strutturale ma anche quella estetica non è da meno perché togliere le ridipinture spesso è una cosa abbastanza impegnativa però con la pazienza nota dei restauratori questo lavoro si affronta e si fa ci vogliono dei tempi però molto lunghi per le sculture una parrocchia in cammino quella di San Bartolomeo della Ginestra i ragazzi dell'oratorio lasciandosi guidare dal brano evangelico di Maria in visita alla cugina Elisabetta si sono rivolti alla patrona chiedendo intercessione e sostegno per affrontare uniti il tempo della ripartenza un cammino che idealmente ha unito i giovani e tutto il resto della comunità con i ragazzi abbiamo voluto parlare del tema del coraggio quindi Maria che è donna del coraggio e allora abbiamo preso il brano del vangelo quando Maria si mette in cammino e va dalla cugina Elisabetta il fatto di avere coraggio è incinta e si appresta a fare un viaggio un viaggio lungo faticoso e allora abbiamo voluto parlare ai ragazzi qual è un po' nella loro vita il coraggio che hanno nelle azioni nel loro quotidiano e allora abbiamo fatto un gioco e abbiamo chiesto in questo gioco una staffetta di mettersi in cammino e in questa staffetta loro hanno scritto che cosa era per loro il coraggio nella loro vita di ogni giorno è stato bello per i ragazzi quest'estate poterci vedere tre volte alla settimana con l'attività dell'oratorio dove erano dedicate il martedì alle attività di laboratori diciamo dove hanno creato hanno creato anche delle cose pitturando facendo dei lavoretti hanno fatto tante cose al martedì al mercoledì era invece solo per i ragazzi delle medie dove insieme si ritrovava con la messa e poi dopo la messa facevamo la pizza insieme poi il venerdì invece solo gioco a squadre divisi in modo da poter ecco fare tante cose all'aria aperta per stare insieme lo hanno costruito loro questo murales che rappresenta la loro vita il quotidiano c'è il bambino che gioca c'è il bambino che fa i compiti c'è un po' tutta l'attività della nostra comunità della nostra parocchia si è voluto rappresentare in questo murales messo nel muro lì nel campo dove tutti i giorni quando i ragazzi si incontreranno avranno sempre in mente questo bellissimo ricordo di questo murales che rappresenta la loro vita la festa della madre del soccorso è per la nostra comunità ma non solo anche un po' per tutta la nostra città un appuntamento molto importante questa chiesa è chiesa santuario quindi c'è un riferimento di un popolo che nella tradizione per secoli si è recato qui ai piedi di questa immagine per rivolgersi al cuore di Maria che è il cuore di una mamma che è sempre in ascolto ecco del bisogno dei propri figli il Vangelo di oggi è il Vangelo delle nozze di Cana ci hanno proprio accompagnato le parole di Maria davanti a quel bisogno Maria che ci dice andate da Gesù andate da Lui ecco siamo partiti da lì dicendo che il Vangelo ecco non è qualcosa di astratto ma è qualcosa di concreto ci chiede di andare ci chiede di metterci in cammino come ha fatto lei andando dalla cugina Elisabetta facendosi carico ecco delle necessità e dei bisogni dei volti che ha incontrato nel suo cammino terreno Maria donna di Nazareth e donna della ferialità abbiamo chiesto a lei di aiutarci a ritrovare l'alba nella difficoltà nella fatica anche nella notte di questo tempo perché siamo certi ed è la fede che ce lo dice che in ogni esperienza di buio in ogni esperienza di notte come può essere anche il tempo che stiamo vivendo c'è una luce e questa luce la dobbiamo cercare ed è la luce che ci fa ripartire è la luce che per noi è il soccorso che è Gesù perché Maria ci rimanda a Lui il nostro soccorso e che ci dà fiducia e speranza per noi celebrare la festa è una famiglia una famiglia allargata che celebra la sua mamma che celebra la sua festa e si ritrova nell'Eucaristia in modo particolare cuore della nostra festa vogliamo davvero che si rinnovi questo passaggio di Dio nella nostra vita nella vita delle nostre famiglie nella vita della nostra comunità 75 anni di gratitudine potremmo condensare così la celebrazione che ha voluto festeggiare questo compleanno speciale per il villaggio del ragazzo in realtà un'occasione molto semplice d'incontro soprattutto per gli ex alunni nella memoria grata di Don Nando 75 anni di gratitudine nell'essenzialità della celebrazione eucaristica il villaggio del ragazzo ha festeggiato un compleanno importante tre quarti di secolo a servizio dei più giovani per garantire il loro futuro ma anche presente la speranza del presente Don Nando diceva col lavoro vai oggi grazie è l'unica parola è l'unica cosa grazie e basta grazie per i doni ricevuti grazie per Don Nando grazie per quello che il villaggio è stato e per quello che è grazie per la gente che ci vuole bene e ci permette poi a nostra volta di moltiplicare il bene il bene se donato non si divide ma si moltiplica la legge dell'amore che la pagina del Vangelo del Giovane Ricco suggeriva è incarnata in maniera concreta nell'opera del villaggio perché dare significa fiorire ha ricordato il Vescovo Don Nando ha vissuto in pieno questa pagina di Vangelo ci aiuti lui con la sua intercessione presso il Padre che è nei Cieli a fare la nostra parte e d'altra parte poi il bene torna sotto forma anche questa volta di gratitudine l'hanno voluta testimoniare tanti ex alunni della formazione professionale che all'inizio degli anni 70 arrivarono proprio a San Salvatore di Cogorno al villaggio del ragazzo da fuori Liguria per cercare una formazione ed un lavoro è lavorato in Marconi italiana uscito dalla formazione della scuola e poi passato in Elsag Elsag San Giorgio a Genova è lavorato lì per 43 anni e invece lei io ho fatto l'elettromeccanico lo stesso qua dopo ho lavorato due anni a Chiaveri poi 31 a Stocarda e adesso mi trovo a Milano aspettando la pensione insomma i ricordi proprio vivo sì 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 questi sono stati gli anni migliori della nostra gioventù e della nostra educazione professionale di vita specialmente cosa vi ricordate una battuta su Don Nando era un gran ascoltatore e ascoltava tutti anche se non lo dava a vedere che ascoltava ma lui capiva già la nostra aspirazione era un nostro amico ecco come veniva giocava con noi ecco ci ascoltava tutti come ha detto lui c'è io dicevo il vento dello spirito la parola di Dio che è penetrante come una spada doppio taglio che Dio parla tutti i giorni Dio dice tutti i giorni vieni seguimi e che noi a volte non riusciamo a entrare in sintonia non abbiamo l'apparecchio giusto voglio dire no per metterci davvero in ascolto fino a fondo e capire perché nella comprensione poi sta la gioia diceva il vescovo nell'omenia e nella risposta la possibilità di ecco di metterci su strade non del tutto nuove ma su strade che Dio ci indica e quindi fare dei passi che Don Nando ha fatto ecco il passo dalla formazione professionale al socio sanitario a tutti i bisogni di questo tipo è stato un grande passo anche se Gesù ha Don Nando ha sempre accolto le persone però poi è diventato un impegno concreto oggi la parte socio sanitaria del villaggio è più abbondante di quella della formazione professionale come impegno di persone le madri superiore delle congregazioni religiose presenti nella nostra diocesi si sono incontrate per eleggere la loro nuova rappresentante la rappresentante dell'USMI che è stata confermata suor Piera Antonia Colombo è stata l'occasione per un primo incontro con il nuovo vescovo di Chiavari Monsignor Giampio De Vasini e per un inizio di cammino anche in questo caso sinodale un incontro per iniziare a camminare insieme quello tra il vescovo e le religiose è lo spirito del sinodo che sta per aprirsi anche in diocesi le superiori dei vari ordini si sono raccontate a Monsignor De Vasini l'USMI è l'unione delle superiore maggiore d'Italia e che in tutta Italia ha questa sede che raccoglie riunisce organizza attività di formazione di servizio per tutte le religiose anche nella diocesi di Chiavari naturalmente c'è questa associazione di suore ed io sono la responsabile che oggi scade dopo cinque anni di mandato che cosa ho fatto in questi cinque anni sono andata a incontrare le suore nelle loro comunità ho telefonato ho scritto ho mandato le comunicazioni che mi venivano da Genova o da Roma perché c'è l'USMI nazionale e poi c'è l'USMI regionale oggi è presente anche la madre presidente dell'USMI regionale perché facciamo le elezioni il nuovo mandato che durerà altri cinque anni con una nuova delegata e un nuovo consiglio prima della votazione naturalmente abbiamo la gioia di avere con noi il Vescovo che peraltro come Monsignor Tamasini siamo sempre state molto molto tenute vicino anche con affetto ogni anno ci mandava la sua lettera quindi aspettiamo molto anche da questo nuovo Vescovo Monsignor Devasini sono 22 le comunità qui in diocesi di varie congregazioni 14 congregazioni questo incontro comunque all'inizio dell'anno è anche un modo un pochino per riprendere l'attività un po' dopo il periodo di pandemia dopo il periodo di lockdown che immagino sia stato complicato anche per voi il periodo di lockdown è stato molto sofferto quindi questo inizio d'anno sarà di vero un grande slancio di ripresa perché tutte ce lo aspettiamo tutti abbiamo sofferto per la malattia di tante consorelle per questo isolamento che ci ha impedito anche tanti gesti affettivi di comunicazione questa relazione è anche molto semplice è mancata ecco è mancata proprio veramente a tutti non abbiamo ancora un programma gli altri anni a quest'ora avevamo già più o meno un programma per l'anno ma adesso un po' aspettiamo le novità che ci dirà il vescovo non c'è un convegno segnalato non ci sono ecco sappiamo questo inizio sinodo da questo inizio sinodo sicuramente avremo un nuovo slancio per ricominciare facciamo di tutto hanno spiegato le religiose con semplicità dal mangiare allo studio dalla preghiera all'orto e continuiamo a formare le persone soprattutto bimbi di asili ed elementari il covid ha frenato molte attività e causato dolori e fatiche ora si intravede una nuova ripartenza è un cammino che da anni l'USMI sta portando avanti tenendo in collegamento tutte le comunità che sono presenti in Italia è un'organizzazione che è stata voluta dal 1951 dopo il desiderio del Papa di allora e che le religiose hanno accolto con molta gioia e poi si è diffusa capillarmente in tutte le diocesi in tutte le zone dove ci sono religiose è un buon diciamo così inizio e diciamo l'embrione di quello che è il cammino sinodale che Papa Francesco continua a sollecitare e vorremmo anche noi inserirci in maniera piena in questo cammino e che porti un vento nuovo anche all'interno delle nostre comunità all'interno del nostro modo di operare ecco da Presidente regionale qual è diciamo lo stato al momento di perete il saluto comunque come come sta andando nelle comunità anche dopo un periodo difficile come quello della pandemia ecco la pandemia ha veramente toccato il nostro modo di essere basato sulle cioè le attività delle piccole formiche qualsiasi persona di noi che sapesse fare qualcosa si dava da fare la pandemia ci ha ristretto questi ambiti ha toccato molto quello che è il cammino di comunione la comunione tra di noi però stiamo risorgendo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per proteggerci e stiamo andando avanti con più desiderio e la ricchezza che ci ha dato la pandemia è il valorizzare le piccole cose valorizzare la bellezza dello stare insieme valorizzare anche la vita la vita di ogni giorno questa è una ricchezza molto grande e soprattutto l'unione forte con il Signore perché con Lui si può tutto si può andare avanti e si ha sempre uno sguardo di speranza uno sguardo bello uno sguardo di serenità e questo è importante perché è importante questo incontro all'interno della vita della diocese all'interno del cammino della diocesi perché le religiose le diverse comunità religiose sono una ventina in diocesi devono intendersi sentirsi reciprocamente ma vivere una comunione rappresentano il proprio istituto il proprio carisma però in comunione ecclesiale costituiscono un po' come diceva Teresa di Gesù Bambino il cuore della Chiesa e oggi in modo particolare questo cuore deve pulsare perché momenti di crisi di covid di difficoltà diverse psicologiche istituzionali anche perché le comunità sono diminuite l'età avanzata è un incontro direi provvidenziale comunque parlando con le vade religiose anche al di fuori dell'incontro che diciamo che clima c'è vede comunque entusiasmo per una possibilità di partenza vede unione un clima di serenità positivo qualcuno si lamenta per le difficoltà pastorali che esistono però non ci si arrende perché dobbiamo ripeterci e dirci reciprocamente che poi chi ci guida è lo Spirito Santo quindi cuore della Chiesa guidata dallo Spirito sostenute si è conclusa la fase diocesana del processo di beatificazione per Carlo Grisolia e Alberto Michelotti con la celebrazione presieduta dal Vescovo di Genova Monsignor Marco Tasca vediamo dopo 16 anni gli atti sulla vita di Alberto Michelotti e Carlo Grisolia saranno presentati alla congregazione delle cause dei Santi a Roma inizia la seconda fase verso la beatificazione e la santità l'inchiesta diocesana si è chiusa con la messa dell'Arcivescovo nella Chiesa dell'Immacolata innanzitutto devo dire che io ho conosciuto sia Alberto che Carlo perché sono stato giovane tanti anni fa insieme a loro e le esperienze che sto vivendo ancora adesso è di un rapporto continuo con loro anche se non ci sono più nel senso che è un rapporto quotidiano io il mattino mi alzo e penso a loro nei momenti di difficoltà penso a loro e mi aiutano nella mia vita quotidiana nelle difficoltà della vita quotidiana ecco tecnicamente adesso la parte diocesana genovese è finita cosa succede? diciamo per usare un'analogia calcistica è finito il primo tempo adesso bisogna cominciare il secondo tempo e ci vogliono due gol i due gol sarebbero uno un miracolo per diventare beati e un secondo miracolo per diventare sani ma la cosa bella è che essendo un'unica preghiera di intercessione quando il miracolo avverrà varrà per tutte e due quindi saranno santissimi Alberto e Carlo sono due amici genovesi uniti dall'appartenenza al movimento dei focolari e dal desiderio di portare a tutti l'ideale evangelico di un mondo unito il loro ricordo e il loro esempio sono ancora attuali anche se è passato tanti anni però il tempo non il tempo non cancella rimane sempre lo stesso attuale perciò ecco è bello signori ricordarli così sì anzi è una grazia perché poi tutto sommato noi non centriamo tanto la questione è che è un rapporto speciale fra loro e Dio e fra di loro sempre con Gesù come dicevano loro no Gesù in mezzo ecco che portava il santo è Gesù è lui erano molto amici sì senza altro sono quasi non cresciuti insieme ma ma quasi questo è il tempo di Dio perché sono passati 40 anni stiamo in giro ma sono ritornati no perché i tempi di Dio non sono i nostri sono i suoi e quando lui vuole li fa perfetti questo mi sembra che sia il momento loro che sono usciti fuori nuovamente le due mamme sono amiche no? sì noi siamo amiche da tanti anni da tanti e facciamo un po' di strada insieme come loro insomma sulla loro scia via Alberto e Carlo sono due ragazzi intelligenti e dotati che amano mettersi al servizio degli ultimi il 18 agosto 1980 Alberto cade durante un'arrampicata e muore a 22 anni Carlo invece muore il 29 settembre dell'80 a 20 anni per un tumore amici per sempre e ora sulla strada della beatificazione insieme che cosa è emerso? è emerso un ritratto di due giovani veramente eccezionali che hanno da insegnare molto agli adulti ma soprattutto agli altri giovani per gli altri giovani possono essere degli esempi sia per la vita sociale che per la vita cristiana perché sono stati molto impegnati sia a livello del loro vivere sociale della scuola della scuola in anni in cui in Italia qui a Genova c'era una contrapposizione ideologica forte nella scuola un momento in cui testimoniare il proprio essere cristiani nella scuola era piuttosto impegnativo quindi due figure molto belle mi ha fatto molto piacere aver avuto questa occasione di studio lei ha conosciuto Alberto e Callo? sì ho conosciuto molto bene entrambi sia nel loro percorso spirituale quando hanno iniziato a fare parte del movimento quindi ci sono stati tanti momenti vissuti insieme con loro tanti colloqui tanti momenti di passaggio anche rispetto alle sfide che questa esperienza evangelica poneva loro per Alberto nell'università per Carlo nel suo cammino da adolescente a giovane ci sono stati tanti momenti lei era a Genova all'epoca? io sì ero a Genova sono stato a Genova per 11 anni per 11 anni e in particolare ho vissuto anche i momenti intensi della morte di Alberto dopo poche ore ero Sant'Anna di Valdieri accanto alla sua salma appena ricomposta e poi soprattutto negli eventi successivi che nel dolore che ci ha colti tutti di sorpresa ha però provocato un'esperienza speciale un'esperienza in cui insieme abbiamo fatto l'esperienza della presenza di Dio che si è manifestata nel giorno del funerale di Alberto noi non eravamo non eravamo abituati non eravamo abituati questa morte ci ha sorpreso e il funerale fu un insieme di lacrime e di gioia con tantissimi giovani con tantissimi giovani subito dopo due giorni dopo abbiamo avuto la notizia della malattia grave di Carlo lì io ho avuto la possibilità di stare con lui 40 giorni all'ospedale fino al momento della morte ma direi sono insieme perché insieme ci hanno fatto fare questa esperienza anche tutti gli adulti insomma la presenza di Cristo in una comunità cristiana che li trascina e li trascende ecco questo è quello che è stato quel momento direi in quei giorni non so io purtroppo non li ho conosciuti sono stata qui a Genova negli anni successivi e ho potuto constatare quanto i giovani sono stati coinvolti da questa loro esperienza di amicizia in Dio di unità veramente che li ha portati a superare loro stessi a dare una testimonianza fortissima di amore di Dio per Dio e per gli altri concreto da quello che hanno fatto per gli ultimi della città ma si sono proprio sostenuti l'uno con l'altro a crescere a superare le difficoltà e i giovani hanno colto molto molto questa loro vita e hanno cercato di imitarli di vivere come loro e veramente essendone coinvolti cresciuti insomma da questa esperienza eravate amici insieme da giovani condividevamo gli stessi ideali quelli che poi hanno fatto di Carlo e Alberto dei modelli luminosi per tutti noi quindi per me questo momento è stato molto importante commovente perché questi ideali si sono dimostrati concreti in fondo si sono realizzati e allora questa è una cosa grande è un incoraggiamento per tutti noi ecco c'è un aneddoto una parola che si ricorda quando vi elevate beh io mi ricordo quel momento in cui ho saputo della morte di Alberto perché quando è caduto è stato in un lampo tutti noi giovani ne eravamo informati è stato come una macchia d'olio si è diffusa la notizia che ci ha lasciato senza parole però nello stesso tempo poi subito subito dopo quel momento con Carlo che ha avuto questo annuncio della sua malattia e abbiamo vissuto insieme questi 40 giorni io mi ricordo che Carlo diceva io vivo per incontrare Gesù e questo è stato un motto per tutti noi l'abbiamo vissuto insieme che idea si è fatto in questo lavoro diciamo l'idea certamente di due giovani che hanno molto da dire per i giovani di oggi anche se sono morti ormai nel 1980 quindi 40 anni fa però il loro messaggio è sempre attuale il messaggio di giovani che pur appunto appartenendo alla loro epoca hanno saputo come dire usare della sapienza del discernimento hanno saputo come ho detto prima in un mio intervento non come dire accodarsi a quelle che potrebbero essere le modi del tempo ma a testimoniare pubblicamente con le parole e soprattutto con le opere la loro fede in Gesù una giovanissima che effetto ti fa una giornata come questa dove si ricorda appunto due giovani come te per me mi fa pensare che la santità è possibile che il cammino della santità è lì dove stiamo ogni giorno invece non fare le cose grandi ma le cose piccole ma mettere l'amore in tutto quello che facciamo così a questo per me è forte che essendo giovani studiando lavorando stia facendo lavori di casa quello che faccio ma mettere l'amore in tutto cosa ci dicono oggi Alberto e Carlo ci dicono che già il fatto che siamo qui insieme a ricordarli vuol dire che è una grande bella cosa vuol dire che hanno segnato la vita di persone questo per me è una cosa bellissima leggendo un po' in questi giorni la loro storia la loro vita mi colpisce come davvero quello che li ha messi insieme l'amicizia questo valore che forse non lo so forse oggi non lo so non mi pare che sia messo al centro delle relazioni ma questi due hanno saputo creare relazioni amicizia lavorare insieme correvano dalla mattina alla sera e mi colpisce questo che uno di due diceva stasera voglio andare a messa quindi stanco morto ma trovo una messa in città cioè sono delle figure sono ragazzi normalissimi leggevo anche i genitori gli amici normalissimi ma hanno saputo avere quello scatto che gli ha permesso di fare sintesi della loro vita vita vent'anni vent'anni cioè davvero sono stasera felicissimo di essere qua perché vuol dire che ancora oggi la fede cristiana è possibile il Vangelo è possibile è possibile e siamo qui per dire questo dunque anche tutta la chiesa diocesana genovese ma non sola oggi è in festa certo ma quando noi parliamo di beati certo quando si parla si parla di beati si parla magari di beati in una certa zona ma poi diventeranno santi per tutta la chiesa cioè questo bellissimo dono che la chiesa di Genova può fare a tutta la chiesa del mondo di due giovani che hanno preso il servo di Vangelo in maniera molto semplice serena normale e hanno saputo essere un segno convincente convincente questo che occorre oggi gente non tanto che convica con le idee ma con la vita quindi è una grande grazia per noi domenica 17 ottobre la comunità parrocchiale di Francolano a Casarza Ligure celebrerà la festa di nostra signora della speranza alle 11 la Santa Messa presieduta dal Vescovo terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con noi chiesa al nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari grazie per averci seguito ci rivediamo la prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti